C'era una volta un uomo sacchetto che viveva in una casa sacchetto. L'uomo sacchetto si divertiva a prendere in giro le persone online, fregandosene delle loro emozioni. Però un giorno anche l'uomo sacchetto diventa vittima di bullismo, viene offeso e maltrattato. L'uomo sacchetto si accorge di essere preso in giro anche lui su internet. Non sa come fare e si sente triste per questo. Decide di parlarne con un amico, che si preoccupa molto, suggerendogli di denunciare la caduta alla polizia postale. Da quel giorno l'uomo sacchetto non ha più preso in giro nessuno perché si è accorto quanto fa male il cyberbullismo. Da quel giorno l'uomo sacchetto non ha più preso in giro le persone online.